Oggi incontriamo la Business Unit Experience nella persona di Luca Lisci. In tutta la Digital Transformation, a livello mondiale, l'Experience è diventata parte integrante del processo. Hanno chiesto questa cosa a Steve Jobs. Non vi confondete, il design non è la forma dell'oggetto, ma è come lavora l'oggetto. Sempre il tavolo di un workshop, tu lo sai, che abbiamo molto questo amore per condividere con il cliente ogni percorso progettuale. Quindi sì, si progetta e soprattutto si sperimenta. Abbiamo due approcci, una parte il marketing con Gray Team, una parte il design con Black Team. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, scegliendo dall'inizio che cos'è per noi il design thinking. E per noi è soprattutto sperimentazione di framework di progettazione. Noi piace dire progettiamo il modo in cui progettare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.